Dopo i consensi ricevuti dagli stessi ragazzi al primo anno della sua istituzione, il corso nautico dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Leonardo da Vinci di Milazzo è pronto alle importanti novità che riguarderanno il prossimo anno scolastico. Un contatto diretto con il mare ha già portato i ragazzi del primo anno al timone di piccole imbarcazioni, utili e di prospettiva anche gli sbocchi occupazionali. È un indirizzo per 5 anni, abbiamo un biennio che chiaramente è comune al biennio tecnologico e poi abbiamo dal terzo anno in poi le materie specialistiche. I ragazzi che frequenteranno il corso nautico usciranno col titolo di ufficiali di coperta e poi potranno sia fare carriera militare nella marina militare andando all'accademia oppure marina mercantile e quindi chiaramente dedicarsi a quella navigazione che è indirizzata soprattutto nel settore del commercio, delle navi da crociera o traghetti. Insomma quello che poi offre la nostra isola, la Sicilia ma soprattutto Milazzo, città di mare di antiche tradizioni. Abbiamo l'obiettivo di creare un filo diretto tra il mare, tutto ciò che riguarda il mare e la scuola, il mondo della scuola. I ragazzi sono subito avviati ad attività legate al mare, i bienni sono comuni in tutti i corsi di studio però noi subito diamo un indirizzo legato al mare in quanto portiamo direttamente, da ottobre abbiamo cominciato con portare i ragazzi per il mare, con un progetto che riguarda la vela e con delle visite guidate su navi scuola e quanto altro possa portare i ragazzi a contatto col mare. Già da subito, già dal primo anno i ragazzi della scuola cominciano già a prendere confidenza con il mare e cominciano già un percorso di vela che li darà diritto ad avere il primo livello della federazione che è il livello alfa.